La mia telefonata Mi fa piacere Quanti dei tuoi amici Ho ucciso? Ho vent'anni di servizio E conosco la differenza tra i tempisti Che hanno bisogno di una lezione E gli psicopatici come te che ci proverebbero gusto Hai ucciso sei dei miei amici? Sì Mi prego, mi fa male lo stomaco Non me ne frega niente, torna a sederti Il capo ha detto che mi avrebbe fatto andare via le voci Che sarebbe entrato e avrebbe messo tante luci Com'è Natale? Tu sei fuori di testa, stai indietro Andate un medico Avanti, apri la cella State indietro voi! Harvey abbiamo poco tempo Ha detto prima Che solo uno di noi ce l'avrebbe fatta Lei che avrebbero scelto i nostri amici Ok, Richard Andrà tutto bene Sta tranquilla, verranno a prenderti Io voglio aiutarti Parlami Descrivimi esattamente tutto quello che hai intorno Riesci a trovare qualcosa di accumulato? Ci sto trovando Cosa? Harvey? Harvey, che sta succedendo? A tutte le unità disponibili Convergerà il 250 della 52esima Vuoi sapere Perché uso il coltello? Le pistole sono troppo rapide Non puoi assaporare tutte le Piccole Emozioni Vedi Nei loro Ultimi Attimi Le persone mostrano chi sono veramente Quindi In un certo senso Posso dire che ho conosciuto i tuoi amici meglio di te Vuoi sapere chi di loro era un vigliacco? Che cos'è? Dio santo Non capisco Una specie di Protuberanza Lo so che questo ti divertirà Ma io cercherò di divertirmi Ancora di più Sta calmo Sta calmo Metti giù quel coltello Lascialo andare È tutta colpa mia Sparategli Metti giù quel coltello Adesso Ma come? Scusa? Che cosa vuoi? Voglio solo fare la mia telefonata Che sta succedendo? Parlami Rispondimi Armi Va bene D'accordo Cos'è? Un telefono Sul marzo a piede Forza Comunque vada Voglio che tu sappia una cosa D'accordo Non dire così Verranno da te Non so che stanno venendo Ma non voglio che vengano Non voglio vivere senza mettere C'è una risposta che non ti ho ancora dato La mia risposta è sì No 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 Non da me Perché sei venuto da me? No Rachel Rachel No Harvey No Rachel D'accordo Rachel No No Va bene così Harvey Non importa Ascolta Da qualche No Non è un misterio Rachel No 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 Grazie a tutti.